L'agricoltura sociale è un aspetto molto importante anche del prossimo PSR della regione Liguria, ma quali opportunità può portare al territorio Ligure e Spezzino? Diciamo che l'agricoltura sociale rappresenta una nuova frontiera, un qualcosa di nuovo a cui forse non abbiamo mai pensato, ma se facciamo un po' di mente locale e cerchiamo di ripercorrere la nostra strada, il nostro passato, ci rendiamo conto che è un qualcosa che di fatto esisteva già. specie nei piccoli centri rurali, queste pratiche qua erano all'ordine del giorno, c'era l'inclusione, venivano assecondati tutti i bisogni della comunità, specie delle fasce più fragili, nessuno veniva estromesso, escluso dalla società. Chiaro che adesso ci arriviamo in questo modo, è vero che ci sono delle misure sul nuovo PSR che finanziano questa attività e benvenga perché sono finanziamenti importantissimi al 100%, però bisogna saperli sfruttare in modo giusto. Dal suo punto di vista, anche da quello che è emerso nel corso di questo convegno, le aziende e anche le associazioni di categoria sono pronte a questa sfida? Certo che sì, devono essere pronte, questa è una sfida importantissima. Credo che siamo in grado di governare il processo e di vincerla questa sfida. Direi che i tempi sono più che maturi, ci rendiamo conto che con l'ordine del giorno, il discorso tagli, specie alla sanità, abbiamo qualche difficoltà a mettere in piedi i servizi sul territorio. Di fatto questo è uno strumento importantissimo che ci aiuterà a prendere due piccioni con una fava, quindi a dare un aiuto alle aziende agricole, ma allo stesso tempo un aiuto alla società. che voglio definire, non voglio definire quelle persone che saranno partecipi di questi progetti sulla agricoltura sociale, non voglio definirle persone deboli, voglio definirle fragili, perché hanno difficoltà evidenti, chiaramente, ma non è una debolezza questo qui, talvolta è un valore aggiunto.